Domani sera organizzeremo la festa dell'Oca, ci saranno tre caratteristiche della festa, sarà la musica swing dal vivo anni 20 e 50, che sarà la band e c'è altro un trio che suoneranno, poi ci sarà tutta l'animazione per i bambini, i bambini più piccolini, i bambini più grandi, ma soprattutto rifaremo tutti, riproporremo tutti quei giochi tradizionali di una volta, come il salto alla corda, il gioco dell'Oca, così dai si divertiranno un po' con i giochi tradizionali di una volta che uno non è più abituato a giocare. E in più noi proporremo come piatti l'Oca, che è una tradizione contadina che si faceva proprio in questo periodo, con l'Oca in porchetta, con le patate al rosso, tagliatello e gnocchi all'Oca col sugo d'Oca. Domani vorremmo presentare questo vino, il Roche, che è il vino che abbiamo creato in collaborazione con la Cantina Lucarelli di Cartoceto, come funzionava proprio nelle vecchie osterie un tempo, cioè ossia l'oste e lo stessa andavano nelle cantine, sceglievano il vitigno, l'uva, la lavorazione e il vino, per poi dopo riproporlo all'interno delle proprie osterie, del proprio esercizio. Noi abbiamo fatto proprio lo stesso identico lavoro e domani sera è un'occasione della festa dell'Oca, vorremmo far assaggiare a tutti quanti i nostri clienti questo vino.